Una passione in comune è un sogno da realizzare, e parte tra emozioni e speranze la settima edizione del Festival Una Voce per lo Ionio. Oltre 40 concorrenti da tutto il sud Italia a contendersi la vittoria finale. Ma chi sono e cosa sognano? Conosciamoli insieme. Ciao a tutti, sono Totino Francesca, vengo da Grotteria, ho 14 anni e canto Destinazione Paradiso di Laura Pausini. Un mondo che va avanti anche se, se tu non ci sei più, se tu non ci sei più. Un mondo che va avanti, se tu non ci sei più, se tu non ci sei più, se tu non ci sei più, se tu non ci sei più. no ci sei più, se tu non ci sei più, se tu non ci sei più. E sì più, se tu non ci sei più. Grazie a tutti